Il governo americano ha spostato l'equivalente di 2 miliardi di dollari in Bitcoin verso un nuovo wallet. Cosa sta per succedere? Hi guys, qui è Ryan, il vostro crypto, analista di Piducia. E in questo video, come sempre, come ogni singolo giorno, sono qui per aggiornare con quello che sta succedendo sul mercato delle criptovalute. Tutte le news e tutti gli eventi che potrebbero impattare e impattano il prezzo, voglio comunicare per l'alimentare di questo video, perché, guys, Bitcoin, dopo aver toccato anche i 70 mila dollari, poi è ricordato verso 67. Infatti, andremo a vedere insieme cosa potrebbe succedere. Però prima, guys, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ma soprattutto attivate quella maledetta campanellina. Per questo, poi, la differenza è da perdere i soldi dei suoi mercati e invece essere profitteboli. Badiamo e partiamo con lo di dare un contesto a questa analisi. Infatti, partiamo, come sempre, con lo visuale su Prick to Hit Magic o Market Cap e vediamo come abbiamo una dominance in calo al 54,95%, per ciò che riguarda Bitcoin. Abbiamo in parte un Bitcoin che sta quotando a prezzo 66.900 dollari, con una perdita negli ultimi 24 ore del 3,77%. Ethereum ha una dominance del 16,71% in calo di quasi l'1%, quotando un prezzo a 3.000 dollari. Andando a vedere la Global Crypto Market Cap, vediamo come negli ultimi 24 ore siamo in calo del 2,97%. Ma cosa sta succedendo a Bitcoin? Vi dicevo negli scorsi video, guys, attenzione al livello. Il livello che separa tra i 62.600 dollari fino ai 63.900 dollari. In pacche qui abbiamo avuto una grossa reazione pre-ass di health system. Però è anche vero che se aprivate, che cosa che io ho fatto, apri un'operazione, riuscivano a portare a casa un 10% di gotham, il 30%. Ora è impossibile andare a prendere esattamente il punto preciso, però comunque sia, sono uscito io, per esempio, per una polluzione lunga intorno a queste zone, aperta verso 63.600 dollari, sono riuscito a prendere un 69.388 dollari. Leggermente sotto la zona psicologica dei 70.000 dollari, ma soprattutto vi coinciderò con questo altro massimo sulle 4 ore. È per questo che abbiamo messo un price target qui. Comunque sia, non lo state so, cosa vorrebbe succedere? Nella giornata di ieri abbiamo visto un bel reverse lead, una bella presentazione di distribuzione da parte dei sellers. In questo caso, su un quattore, ma è evidente anche sul daily, si sta formando quel che sembra un testa a spalle. Infatti abbiamo due massimi che coincidono sulla stessa linea. Tra l'altro, nella giornata di ieri, gli dicevo attenzione anche a questo livello, perché quando dovessimo chiudere tutto questo livello, purtroppo potrebbe invertirsi la tendenza, ovviamente, nel breve termine. MIMAC range, siamo ancora esattamente in una zona di lateralità, ma voglio mostrare anche una cosa importante. Infatti, se noi andiamo a prendere il grafico a linea e ci diamo una trendline tra i massimi toccati, vediamo come attualmente, tornando appunto sul piafrico candele, abbiamo toccato esattamente questo livello, che è il livello che coincide con il massimo livello di prezzo che ha toccato Bitcoin durante la salita di ieri, che poi è stata riassorbita. Quindi, un'altra indicazione che il target poteva essere questo, ce lo dava la trendline dinamica per quanto riguarda il deieri. Quindi, guys, questo è un po' la situazione. Nel momento di ciò, cosa potrebbe succedere? L'importante è non perdere questa zona. Perché questa zona? Perché tra i 69.950 dollari, fino ai 65.400 dollari, abbiamo questo livello che potrebbe supportarci in una possibile risalita. E, qualora dovessimo sfondarlo dal sui basso, potrebbe trasformarsi in una MEC line. MEC line di questo pattern, pattern ovviamente ribassista, ritesta per poi andare a prendere i livelli più in basso. Cosa che non vogliamo assolutamente che succeda. Però queste analisi dobbiamo andare a monitorarle giorno a giorno. Per quanto riguarda la liquidazione, liquidation hypnav, vediamo come abbiamo preso praticamente tutta la liquidità che si trovava sui tre mesi. Adesso si è accumulata tanta liquidità, che è stata generata da questo in burcello, questa in cammella ribassista, che ha preparato il presso da 70.100 dollari, fino ad i 66.000 dollari in pochissime ore. E, di conseguenza, abbiamo tutta questa liquidità che, come ho detto prima, è derivante da questi player che sono la via ribassisti da queste zone, e che hanno giustamente spinto il prezzo verso il basso. Tornando per quanto riguarda, e andando a vedere i Bitcoin ETF, possiamo dire che ieri è stata una giornata positiva, nonostante il collo. Infatti, diverse persone, diversi investitori, hanno approfittato per andare ad accumulare. Infatti, abbiamo un bottone in flow positivo di 1.790 dollari. Io vi consiglio di rimanere fino alla fine di questo video, perché potete ottenere un 15% di cashback su un deposito. Comunque, rimaniamo sotto stretto giro. Abbiamo delle notizie molto importanti, che, secondo vari rumori, Biden potrebbe tagliare e sarebbe intenzionato a tagliare i tassi di interesse tramite la banca centrale americana entro la fine di quest'anno, andando ovviamente a rovinare le tene di Donald Trump. A proposito di questa circolazione, ovvero il caldo dei tassi di interesse, ma ci combatteremo domani, ma che anticipo che domani stesso ci sarà l'FOMC, che, ovviamente, come ogni mese, quasi ogni mese, è una sessione in cui la banca centrale americana va a dichiarare se tagliare o stazionare i tassi di interesse. Praticamente, a punto di vista macro, l'evento più importante che possiamo vedere benissimo, ok? L'aspettativa di mercato è del 5,5% e, ovviamente, come un dato precedente è del 5,5%, ma ci torneremo domani. Inoltre, dopo mezz'ora dalla dichiarazione pubblica del Federal Funds Rate, ci sarà l'FOMC press conference, che, ovviamente, non è altro che Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, che va a parlare e, di conseguenza, va a spiegare cosa potrebbe succedere in materia di politica monetaria durante le prossime sessioni dell'FOMC, ok? Le sessioni successive. Questo, probabilmente, è quello che ha creato un po' di panico durante la giornata di ieri, perché, infatti, quando è uscita la notizia, appunto, che Arkham Intelligence ha riportato e ha notato uno spostamento di circa 2 miliardi di dollari in bitcoin da il wallet ufficiale del governo americano ad un nuovo wallet ed è per questo che ha, comunque, contribuito ad Panico e a creare di selling pressure sui mercati, ok? Infatti, moltissimi analisi si domandano per quale motivo possa essere stato fatto questo trasferimento per iniziare a venderli per, comunque sia, andare a avere dei servizi di custodia migliori. Soltanto il tempo ce lo dirà. Per adesso non li hanno venduti ma li hanno soltanto spostati verso un nuovo wallet. Però, sapete bene che questi eventi creano panico e scompiglio sui mercati. Abbiamo delle interferenze molto probabilmente da parte del Big Tech. Infatti, se andiamo a ricercare su Google, questo, però, è presente soltanto per gli utenti americani. President Donald non esce President Donald Trump ma esce, per esempio, tra i consigliati President Donald Duck President Donald Reagan in realtà, sapete bene quanto soprattutto negli Stati Uniti ma questo in realtà a livello globale il Presidente Donald Trump è una delle persone più flatti più ricercate attualmente su Google quindi, probabilmente, Google sta favoreggiando e sta interferendo per quanto riguarda le elezioni. Infatti, questa è una cosa molto molto grave che potrebbe compromettere in un modo o nell'altro le prossime elezioni di novembre. Comunque, aggiornerò su questa situazione perché sembra molto molto ambigua. Guys, come vi dicevo ottieni il 15% di cashback per tutti quegli utenti che depositano e soprattutto fanno trade su Bluffin. Vi lascio il link qui sotto in descrizione per andare a provare ad ottenere questo bonus. Bluffin, per chi non lo conoscesse, è un exchange. Nokia YC permette di operare in Nokia YC e soprattutto dà la possibilità di avere diversi vantaggi come per esempio il 15% di cashback. Salvatevi, queste sono tutte le condizioni, per esempio con un tetto massimo di 7500 dollari di bonus su Futures è dedicato soltanto ai primi 200 utenti e le condizioni di bonus deposito mi importano dal spedito al conto Futures meno l'importo dal spedito dal conto di Futures. Comunque sia guys iscrivetevi al canale lasciate un like ma soprattutto attivate quella manedetta campanellina da Ryan è tutto ci vediamo al prossimo video ovvero domani Bye